se io facessi solo questo, suonassi solo la sinistra non riesco a capire bene cos'è no? non riesco a capire, non riesco a capire, non riesco a capire bene cos'è? ci vuole qualcosa, un dispositivo e pensate che molte delle attrezzature, ora i tempi sono cambiati, molte delle attrezzature che venivano usate per costruire un'esperienza pratica, insomma, per capire... vediamo un colpetto, come lavate il colpetto per chissare un po' di più... perfetto, ecco, senti che parte più saldo, ora questo tramite una pressa lo schiacciamo, viene schiacciato tutto, poi tramite uno stampo facciamo tutti quei cori e poi noi mettiamo questi elementi qua ecco, 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 va bene così... ecco, ecco... ecco, ecco... ecco, ecco, ecco... ecco, 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 ecco... Grazie a tutti.